buongiorno ragazzi purtroppo abbiamo avuto un problema abbiamo avuto un problema con la dottoressa e non potrà essere con noi per questa prima ora quindi per la prima ora cosa faremo per la prima ora visioneremo parte della live passata e quando tra un'ora alle 10 potrà essere con noi comincerà la vera e propria lezione mi dispiace per questo contrattempo però purtroppo non ci possiamo fare niente quindi questo è quello che per ora possiamo fare grazie ragazzi scusateci ancora per questo contrattempo non so se riesce magari azzurra a vedere se riesce a darmi praticamente la regia perché avendo forse lei la questione di essere host forse non riusciamo insomma a condividere questo schermo e allora vi racconto vi racconto chi sono e magari cercherò di fare una lezione teorica nonostante magari con le slide sarebbe stato più più carino perché avevo preparato insomma un po di contenuti e da poter condividere con voi e che poi sono i contenuti che io ho e preparo all'interno appunto della della mia accademia di formazione allora io sono isabel martino nella vita sono una criminologa investigativa e specializzata in analisi delle tracce sulla scena del crimine e in psicologia psicopatologia e psico diagnostica in ambito civile e penale io sono un ctp e un ctu quindi un consulente tecnico di parte e un consulente tecnico d'ufficio poi vedremo nello specifico che cosa significa ctp e ctu e sono consulente tecnico per la maggior parte dei casi di cronaca nera in puglia ed anche dei casi diciamo a livello nazionale parliamo di un 18 casi per il del quale io mi occupo di e prettamente perché sono specializzata in omicidi violenti quindi in crimine ferati e in scomparse eh e quindi nel ramo col case che significano eh omicidi a pista fredda e quindi la scomparsa di determinate persone e anche gli omicidi che non hanno un colpevole e sono da sei anni all'interno delle varie equip della dottoressa Roberta Bruzzone sono un team manager del gruppo a pista fredda dell'associazione a pista fredda della dottoressa Bruzzone che si occupa della revisione dei casi che non hanno avuto una risoluzione quindi di quelli più difficili ma eh mi occupo anche all'interno della sua del diciamo del suo organico ehm della eh diciamo dello studio dei fascicoli giudiziari dei casi più complessi quindi sono ehm eh diciamo a tutti gli effetti uno dei suoi bracci sidestri e eh ho 35 anni e ho deciso poi eh dopo tanti anni di gavetta di aprire una mia accademia di formazione in Salento in Puglia ehm quindi mi occupo anche di corsi di formazione per ma da partire da maturandi poi vedremo eh come mai si può partire da maturandi a fare dei corsi di formazione e fino a quale partecipano eh o esperti del settore oppure magistrati, avvocati e psicologi e mi occupo della formazione infatti mh la mia accademia che si chiama eh C-Crime ma in realtà è un è praticamente un acronimo inglese è un rafforzativo di crime è stato studiato apposta ma anche significa criminalistica e criminologia perché lo studio della criminalistica e poi vedremo perché è uno studio molto settoriale ed è ehm ed è diciamo la mia passette più portata quindi l'analisi proprio della della vera e propria scena ecco io avevo preparato delle slide con delle scene del crimine reali quindi spero di riuscire insomma nel corso del tempo a eh a trovare eh il sistema per farvele vedere mh e eh quindi ho la mia scuola di formazione e mh ho all'attivo un sei corsi di formazione quindi un cinquecento studenti che studiano nella mia accademia e di cui quattro sono stati assunti all'interno della mia del mio staff quindi anch'io ho un'equipe che si occupa in Puglia della maggior parte dei casi diciamo li prendo dai miei studenti e i miei collaboratori e dalla maggior parte dei casi insomma ci occupiamo insieme perché si prendono dagli studenti collaboratori perché ogni criminologo ha un modo di eh di ragionare ha un modo di intervenire sulla scena del crimine e alla sua eh esperienza quindi diciamo che chi si forma eh come fa anche la dottoressa Abruzzone con eh con me eh è diciamo più facile che eh magari riesca a collaborare all'interno del mio studio comunque ho anche la possibilità di fare degli stage da parte di studenti dell'università di Foggia dove c'è eh crimine e devianza e criminologia e scienze dell'investigazione poi andremo a vedere insomma quello che possono essere i vostri eh il vostro percorso di studi e quello che potete effettivamente intraprendere per iniziare a fare questa professione. La mia professione è molto tecnica cioè io sono un criminologo proprio tecnico nel senso che io intervengo proprio nello studio nell'analisi dei fascicoli giudiziari e intervengo proprio nel repertamento, nelle analisi, nelle tracce della scena del crimine. Poi ci sono vari tipi di criminologi però il mio è un ruolo molto attivo quindi ehm diciamo che ci sono pochissime donne che lo fanno in Italia perché fare ehm il sopralluogo essere esperti di scena del crimine e eh come criminologhe è un po' più diciamo più pesante dal punto di vista lavorativo però è è anche che trae tanta diciamo soddisfazione quindi il mio ehm lavoro è prettamente all'americana in sostanza scordiamoci eh quello che sono ehm si sa i i vari i vari insomma ehm i vari film eh i vari programmi di approfondimento perché molto viene ovviamente eh romanzato viene comunque eh molte delle attività che noi abbiamo in Italia non si svolgono come in America il nostro ordinamento giuridico prevede delle procedure che sono ben scritte e ben strutturate quindi non possiamo una persona alla destra in Italia non esiste. E come ci sono arrivata a fare questo lavoro? È una delle domande che la maggior parte degli studenti che si approcciano al mondo dell'università mi chiede. Il mio percorso è raro lo dico già quindi vi racconterò il mio percorso ma eh vi spiegherò anche come ci si arriva in maniera più semplice diciamo se più semplice può essere definita questa via. Allora io eh non conoscevo il mestiere, la professione del criminologo e ehm... devo dire una cosa. Mandarmi la slide e la presento io. Ok allora eh mi assento un minuto il tempo che mando ad Azzurra le varie slide perché sono più più di una e ehm e praticamente poi cioè insomma ritorno in in stream. Un secondo soltanto. Il tempo di inviarle le le slide. Eh mi ricordo di compilare il modulo che vi ho inviato per le presenze perché sarà l'unica cosa che dimostrerà che siete presenti. Vi ho inviato nella chat di di YouTube. Se volete lo rimando, fatemelo sapere. Ora prendo il telefono perché dato che è una live privata non posso leggere i commenti da qua e devo entrare direttamente io nella live. Per quanto riguarda le domande potete fare o nel nei commenti della live stessa però penso che non sia il caso. Ehm pure perché non li leggiamo perché ne arrivano altri spam. Però potete anche mandarli nel modulo quello bit.ly slash domande per gli ospiti. Ehm io le vedo e poi gliele posso fare direttamente a Isabel. Nel caso di interventi più lunghi che vogliate fare basta che mi iscrivete anche tramite rappresentante di classe e vi mando il link per entrare nello stream qua proprio in videochiamata con noi. Quindi fatemi sapere. Ah perfetto mi ha inviato il link. Quindi ora vi faccio vedere la presentazione. Perfetto. Ok. Ora ve la faccio vedere. Vediamo se l'è tornata. Eh non è tornata ancora però vi faccio vedere la presentazione. Allora. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ora aspettiamo Isabel. Ah me ne metto più di una. Vabbè intanto mettiamo questo. Comunque eh speriamo che sia interessante questa videochiatra mi piace che stiamo aspettando. Eh penso che tra poco tornerò e che mi stiamo inviando ancora altre altre slide. Ecco l'è tornata è tornata. Perfetto. Allora eh entriamo nel vivo. Allora praticamente vi spiego un attimo come vi stavo spiegando. Grazie a Zurra per aver trovato la soluzione. Come vi stavo spiegando il diciamo eh come ci si arriva a fare questa professione. Quindi io non conoscevo proprio la professione del criminologo. Non era nelle mie nelle mie corde e non era nelle mie insomma in quelle delle mie grazie. Infatti mi ero iscritta a scienze politiche e relazioni internazionali. Avrei voluto girare il mondo, fare insomma la eh il diplomatico. Ehm poi quando ho visto in realtà eh la laurea magistrale quindi dopo cinque anni di università eh ho fatto una tessi specialistica eh l'ho fatta con 110 lode quindi era comunque anche un'alunna promettente. Subito dopo però c'è proprio quello spazio temporale che si apre tra il mondo del lavoro e lo studente. E devo dire che era un periodo di crisi. Cosa succede nel duemila e dieci? Il Salento viene scosso dal delitto di Avetrana. Il delitto di Avetrana quindi quello di Sara Scazzi, Michele Misseri e quant'altro. Molti di voi sono molto piccoli per ricordarlo, erano molto piccoli quando è successo e ehm quindi questo è stato diciamo nel Salento un momento dirompente nel quale comunque c'erano un sacco di truppo televisivo e tutti erano molto molto ehm interessati a questo delitto. E nell'interessarmi a questo delitto come tutti i Salentini all'epoca avevo ventiquattro anni, venticinque ero già grande e è apparsa la figura in porta a porta in televisione della dottoressa Bruzzone e ho pensato che io avrei voluto essere tra virgolette come lei ma come persona cioè non sapendo realmente il lavoro che facesse. Quindi mi sono informata cosa fa il criminologo, mi è sembrata una cosa fighissima e mi sono iscritta alla seconda laurea in scienze ma in scienze criminologiche, investigazione e sicurezza a Forlì. Per poi scoprire alla fine del mio percorso a Forlì che è esattamente l'università più giusta per fare il criminologo come volevo farlo io sulla scena del crimine. La mia fortuna è stata quella di incontrare il docente del laboratorio di criminalistica, perciò io sono innamorata della criminalistica, e di praticamente essere indirizzata da lui alla scuola di formazione della dottoressa Bruzzone. Immaginate io sono andata lì, mi compravo i libri, speravo di avere gli autografi della dottoressa Bruzzone, mi sono ritrovata ad essere una studentessa della sua accademia. Questo mi ha portato a fare una tesi all'interno di quel master che era un caso che dopo vedremo insieme, un caso reale della scomparsa di una ragazza, e mentre una povera stupida come me studiava i fascicoli per fare la tesi, mi è balzata all'occhio un piccolo particolare che poi in realtà quel piccolo particolare tanto piccolo non era perché è appuntato alla risoluzione di uno dei call case italiani, perché in Italia c'è un registro ufficiale dei call case, che è una delle cose rare nella carriera di un criminologo. Questo mi ha portato ad entrare subito nelle grazie della dottoressa Bruzzone e da allora a collaborare oramai da cinque anni nella maggior parte dei casi di cronaca. Oggi vi illustrerò cosa sono le scienze forensi e così la scena del crimine. Quindi non per forza bisogna, si può fare questo lavoro dai percorsi classici, quindi psicologia è la prima facoltà in assoluto più idonea per intraprendere poi la professione del criminologo. Posto che se a voi piace la scena del crimine, oltre a psicologia dovreste sicuramente impiegarvi in una specializzazione in psicologia clinica, in devianza e poi sicuramente fare delle attività di criminalistica perché un criminologo che non sa leggere la scena del crimine è un criminologo che è come se fosse amputato, cioè come se fosse una persona che non può andare con le sue gambe. La scena del crimine viene studiata dalla criminalistica e dalle scienze forensi. Quindi le scienze forensi sono lo studio e la pratica delle applicazioni della scienza per i scopi previsti dalla legge. Quindi praticamente le scienze forensi comprendono una vastità di materie che sono per esempio la medicina legale, quindi chi vuole fare medicina, la tossicologia, quindi chi vuole fare la biologia come facoltà, la psicologia, l'antropologia, quindi chi vuole fare archeologia, chi vuole fare anche ingegneria, la criminologia come scienza perché la criminologia sappiamo tutti che non è una professione, la criminologia è un'abilità applicata ad una professione e quella professione poi ti consente di lavorare in tribunale e di curare come consulente delle varie famiglie. Andando avanti praticamente nell'altra slide, vi ho messo un elenco di quello che per uno studioso dell'FBI è proprio una serie di materie che intervengono sulla scena del crimine. L'antropologia forense, che è l'applicazione dei metodi delle teorie antropologiche per la risoluzione dei problemi metico-legali, non sempre le scene del crimine sono dei cadaveri belli messi lì e tranquilli, molte volte i cadaveri vengono trovati dopo molto tempo e vengono trovati in condizioni come per esempio quello di Yara Gambirasio, in condizioni all'estrema impuria delle intemperie, in posizioni impervie, in boschi e l'antropologo forense non può far altro che stabilire insieme al medico legale quel cadavere da quanto per esempio tempo è lì. L'archeologia forense, molte volte i cadaveri vengono agglomerati, le ossa che troviamo in frammenti ossei, vengono agglomerati dai terreni e anche dagli strati calcari delle pietre, quindi l'archeologo forense cosa fa? Va col pennellino, va con i suoi strumenti e piano piano, piano piano, piano piano tira fuori il corpo di quella persona o i frammenti ossei che ne sono rimasti. L'entomologia forense è lo studio delle larve che si creano all'interno dei cadaveri, quindi cosa succede? Per esempio nel caso di Yara Gambirasio sono intervenuti antropologi forense, archeologi forense, entomologi forense perché si è stabilito che quando Yara è stata trovata nel campo di Chignolo d'Isola è stata trovata in una posizione per la quale i fenomeni putrefattivi avevano praticamente agevolato la crescita della piantagione all'interno del suo corpo e quindi praticamente con lo studio dell'entomologia forense e quindi delle larve che erano su queste piante si è scoperto che quel corpo non è stato mai portato in un secondo momento ma era lì dal momento in cui la ragazza è morta. L'odontologia forense, chi vuole fare il dentista, l'odontoiatra? Dici cosa c'entra? Sì, perché l'odontologo forense è la prima figura che interviene sulla scena del crimine quando viene trovato uno scheletro osseo e la dentatura intatta per stabilire l'identità e soprattutto l'età in base alla l'arcata dentaria. Quando si trovano trovati quei cadaveri in cui è impossibile ristabilire l'identità si fanno i calchi dell'arcata dentaria e con l'arcata dentaria si può risalire. Ma l'odontologo forense lavora anche in tribunale per esempio nei casi di maltrattamento. Quando i bambini sono per esempio maltrattati una delle prime cose che si vanno a guardare sono per esempio lo stato dei denti. Non solo, nei casi di maltrattamenti per esempio i morsi, nei casi dei morsi dei delitti, per esempio nel famoso caso della Cesaroni che è una donna che venne trovata morta tantissimi anni fa, parlo di più di 40 anni fa, il caso è stato riaperto e chiuso una manciata di anni fa, ne avrete sentito parlare se siete degli ascoltatori di quarto grado piuttosto che chi l'ha visto, proprio perché sul reggiseno è stato trovato l'impronta di un morso. Quel morso è stato confrontato con l'arcata dentaria dell'ex ragazzo di questa donna. La patologia forense che praticamente ci fa capire com'è morta quella persona, perché non è detto che sia morta, è assolutamente perché magari ha avuto un accoltellamento, magari ha avuto un accoltellamento, poi ha avuto un'assiderazione, poi è stata mangiata dai lupi. Quindi ovviamente troviamo un cadavere con più lesioni, il patologo ci insegna che le lesioni ci sono. La psicologia, ovviamente psichiatria forense, quindi chi vuole diventare medico e poi psichiatra o psicologo, e la toffonomia forense, che è quei fenomeni post-mortali che sono particolarissimi, e la tossicologia forense, come ci siamo detti, è anche per esempio che studia all'interno dei cadaveri se quella persona ha fatto uso di droghe, è stata avvelenata, è stata avvelenata e poi strangolata, per esempio può esserci, andando avanti. Quindi vedete quante professioni voi potete fare, quante facoltà potrete intraprendere e fare i criminologi lo stesso, perché nessuno vi dice che facendo l'odontologo, quindi l'odontoiatra, non puoi fare il criminologo ed essere per esempio un criminologo esperto in odontologia forense e lavorare in tribunale per un determinato ramo, per esempio. Poi abbiamo l'archeologia forense, l'abbiamo già detto, l'odontologia, andando avanti alla prossima slide, quindi alla slide numero 4, eccola qui, abbiamo anche altri campi, altre materie che sono più nobili, come la biologia, che è lo studio di tutte le forme viventi. La biologia forense ci ha insegnato, per esempio, nel caso di Federica Mangiapelo, cosiddetta ragazza del lago, la ragazza che venne trovata la notte di Halloween su un letto di un lago, quel caso si è risolto grazie alla biologia forense, quindi allo studio delle diatome, che sono delle particolari piante, all'interno dei polmoni di quella ragazza che hanno stabilito che quelle particolari alghe, quelle particolari diatome, erano soltanto all'interno di quel lago. Quindi la ragazza, quando è caduta sulla superficie acqua, ha ispirato le diatome, quindi significa che qualcuno premeva il suo viso contro quella superficie di acqua. La geologia forense, più o meno lo sappiamo, è che lo studio dei suori, dei minerali, delle rocce per identificare e verificare la compatibilità con campioni di terreno. Una persona seppellisce un cadavere da una parte, ritorna a casa, alle scarpe sporche di terra, si può risalire magari dove quel cadavere è stato, per esempio, seppellito, come nel caso di Bennu, per dirvi. Genetica forense è la parte più figa, perché lo studio del DNA, abbiamo capito adesso che il DNA è una delle cose più importanti che vengono repertate sulla scena del crimine per dare un'identificazione precisa e inequivocabile al reo. E in digital forensics, a chi di voi ama smanettare al computer, assolutamente si può laureare in informatica forense e fare un corso in digital forensics e quindi diventare quella persona che quando, perché questo è un esame che viene fatto sempre, quando c'è un caso sia di scomparsa che di omicidio, una delle primissime attività che si fanno e andare a vedere gli apparati telefonici, quindi le celle telefoniche, i cellulari, i computer, si può essere tranquillamente informatici forense e quindi informatici, laureati in informatica e criminologi, quindi lavorare comunque anche in questo settore. Andiamo avanti con l'altra slide. Quinta. Ok. E nuove tecnologie, quindi i vostri genitori che magari vi incitano a fare ingegneria, ma magari a voi pensate che sia fighissimo fare il criminologo, potete fare gli ingegneri forensi, assolutamente, perché per esempio gli ingegneri forensi nei delitti di precipitazione, cioè quando una persona viene defenestrata o comunque in incidenti particolari, in incidenti stradali che hanno causato dei morti, assolutamente si può fare gli ingegneri e poi specializzarsi in ingegneria forense. E l'analisi forense dei video è una cosa fighissima, per esempio sulla scena del crimine c'è chi gira i video, perché tutte le scene del crimine, tutti i reperdamenti sono videoregistrati, c'è chi gira i video e chi fa le foto, che è esperto in fotografia forense, cioè va a fotografare soltanto quello che è il sopralluogo in un determinato caso. E l'analisi forense dei video, per esempio, serve per le rapine in banca. Quando in quei video viene visionata la figura di una persona c'è bisogno di capirne l'altezza, il peso, la morfologia, il viso, per esempio. Andiamo avanti. Quindi, la priorità che deve avere uno scienziato forense, che poi in realtà parliamo di tutte figure che sono tutti criminologi, quindi non c'è bisogno di essere criminologo puro, in realtà. In realtà ci si può specializzare in tutte queste materie e prendere la branca forense di queste materie, se ugualmente criminologi. Le scienze forense di cosa si occupano? Quindi dell'analisi, quindi lo studio, che è un elemento, praticamente l'analisi dei fascicoli, l'analisi delle caratteristiche essenziali di un caso, il confronto, quindi la comparazione tra i vari reperti e la comparazione degli stessi. Quindi analisi, confronto e valutazione sono i tre perni delle scienze forensi. Andiamo avanti, così siamo belli attivi. E cos'è una scena del crimine? Molti di voi l'avranno sicuramente, se lo saranno sicuramente chiesto, cos'è una scena del crimine? Immagino che tutti voi pensiate che è una scena del crimine, puoi aprire anche l'altra slide, tanto andiamo veloci perché oggi siamo molto discorsivi. Una scena del crimine, innanzitutto scena del crimine, che significa? Cracking scene deriva dal linguaggio americano, dallo slang americano, perché noi sappiamo che gli americani sono molto più avanti di noi per quanto riguarda i sistemi di analisi della scena del crimine. Quindi Cracking scene è la scena intesa come to stage, cioè il fatto dove è avvenuto un crimine. Ma che crimine? Cosa si intende? La scena del crimine non ha soltanto i delitti sanguinari e i cadaveri uccisi e ammazzati. La scena del crimine, per esempio, comprende tantissimi reati, tutti i crimini. Quindi possono essere, per esempio, la violenza sessuale, un furto, una rapina. Anche la rapina è una scena del crimine. Io ho dei colleghi che lavorano anche insieme a Roberta nella stessa equipe, che sono criminalisti. Poi vanno ad analizzare proprio le impronte digitali e molti altri apparati. Loro praticamente vengono chiamati tantissime volte dalla polizia per andare a repertare sulla cassaforte dei vari supermercati l'impronta digitale per ritrovare il reo. Quella è una scena del crimine. Quindi non è soltanto praticamente il delitto sanguinario, anche la rapina, il furto, la violenza e praticamente tutte le scende in cui si trovano per forza delle tracce di sangue oppure carichiare elementi che vanno a ricondurre al reo di un determinato reato. Andiamo avanti. La scena del crimine quindi non sono mai uguali. Cioè qualsiasi omicidio che voi avete davanti o che noi criminologi abbiamo davanti non avranno mai le stesse caratteristiche di un altro. Può essere lo stesso tipo di morte, per esempio per strangolamento, ma troveremo scene del crimine sempre differenti, perché ogni scena del crimine è un teatro a sé, è diversa a sé. Può essere uguale il reato, ma nessuna scena del crimine sarà mai uguale, perché ogni cadavere viene trovato in una scena del crimine differente. Andiamo avanti, senza che entrino nello specifico, perché questo è lo stesso materiale che io faccio ai miei corsisti. Quindi proteggi, preserva è il principio dell'interscambio. Questo è fondamentale. Io sono innamoratissima di questo principio, perché è un principio molto bello. Ciò è che quando un individuo viene a contatto con la vittima, lascerà alla vittima qualcosa di sé e porterà via qualcosa della vittima con sé. Quindi in una scena del crimine, anche se non si trova il reo, ricordiamoci che al cento per cento non esiste il crimine perfetto, esistono le indagini sbagliate. Quindi ogni persona, un individuo che viene in contatto con un altro individuo, produce un interscambio e porterà via con sé qualcosa dalla scena del crimine e lascerà qualcosa di sé sulla scena del crimine, al mille per mille. Quindi protegge e preserva dipende, cioè è praticamente quello che sono i principi fondamentali per noi criminologi. Proteggere la scena del crimine e preservare le tracce per andare a individuare i colpevoli. Andiamo avanti. Poi la cosa importante, per esempio, per un criminologo specializzato in analisi delle scene del crimine, sono le tracce, la scena. La scena praticamente microscopica e macroscopica. macroscopica. Macroscopica si intende tutto quello che c'è intorno al cadavere. Microscopica è il cadavere, le tracce che sono su di esso. Quindi abbiamo due tipi di scena del crimine, la macro, che è quella attorno al cadavere, e la micro scena del crimine, che è il cadavere. Anche il cadavere ha all'interno delle peculiarità per la quale il cadavere stesso è una scena del crimine. Andiamo avanti. Allora, Molte volte, davanti ai delitti, noi abbiamo la scena del crimine primaria e la scena del crimine secondaria. Molte volte i cadaveri, quando vengono ritrovati, sono stati posati in un posto. Quindi abbiamo davanti che cosa? Il posto dove ritroviamo il cadavere, che è la scena del crimine secondaria, ma il posto dove è avvenuto il fatto che è la scena del crimine primaria. Come facciamo a capire? Una persona uccide un individuo in un appartamento, poi lo fa pezzi e lo butta. Famela Mastropietro, la ragazza che si era trovata depezzata in due valigie, scusatemi. Quella lì cos'era? Una scena del crimine secondaria. Ovviamente, quando troviamo quelle due valigie, cauteliamo la zona, chiamiamo la squadra e facciamo i rilievi. Ma quella dove è stato trovato quelle valigie non è la scena del crimine primaria, è la secondaria, che va trattata come la primaria. Ma la primaria è dove è stata depezzata la famela. Quindi la prima cosa che dobbiamo andare a fare è cercare di trovare dove è stata uccisa quella donna. Perché sulla scena primaria avremo sicuramente tracce dell'assassino. Andiamo avanti. Ovviamente, come sappiamo, noi immaginiamo praticamente le scene del crimine all'interno di un appartamento. Non abbiamo soltanto quelle all'interno dell'appartamento, ma abbiamo quelle all'esterno. Quindi abbiamo indoor, outdoor, in sostanza. Andiamo avanti. Ve lo spiego molto velocemente, così siamo i più discorsivi possibili. La classificazione della scena è praticamente in base al tipo di reato, al tipo delle condizioni di ritrovamento del corpo e al tipo di comportamento criminale possin'essere. Quindi abbiamo delle scene che possono essere definite cruente o meno in base a degli standard. Possiamo andare avanti. Cosa si cerca sulla scena del crimine? Questo è importante. Allora, sulla scena del crimine si cerca. Andiamo avanti. Allora, noi praticamente abbiamo le prove personali e le prove fisiche. Le prove personali, per esempio, sono tutto quello che sono i testimoni. Quando si trova un cadavere, le prime cose che bisogna fare è isolare la scena, preservarla, perché abbiamo detto per l'internet scambio di locker, ma andare a prendere le fonti di chi è praticamente sul luogo. Perché quando viene ritrovato un cadavere, molte volte viene chiamata la polizia o i carabinieri, intervengono sulla scena e praticamente le persone che hanno chiamato devono essere assolutamente ascoltate. Quelle sono le prove personali. Le prove fisiche, invece, sono quelle che sono sulla scena. Quindi le impronte, la balistica, se c'è stato uno sparo e che sono oggettive, oggettivabili. Quelle non possono essere modificate. Le prove personali, forse alcune volte, abbiamo dei depistaggi che vengono operati proprio direttamente quando vi avviene il fatto. Abbiamo dei testimoni magari infedeli o dei testimoni che non sono magari tanto attendibili. Quindi andiamo avanti. Ok. Possiamo andare avanti. Vediamo cosa... Allora, ovviamente, un'altra cosa che voi vi sarete chiesti, immagino, no? Io ora vi do un attimo il backstage della scena del crimine. Perché alcune volte intervengono i carabinieri, alcune volte intervenga la polizia? Allora, dobbiamo sapere che c'è una centrale unica, un numero unico di emergenza. Questo ormai da due anni. E praticamente interviene la polizia e i carabinieri in base al territorio della città. Cioè, qual è il nucleo di appartenenza di quei quartieri? Perché ogni quartiere ha l'appartenenza o il comando dei carabinieri o il comando della polizia. Ovviamente, sulla scena del crimine interviene assolutamente. La squadra mobile che è stata chiamata, quindi quando quello chiama e dice c'è un cadavere, quindi la pattuglia. Poi interviene, viene chiamata praticamente la PG, polizia giudiziaria, il PM che svolge le indagini, il medico legale, vigili del fuoco se per caso è una scena del crimine particolare e assolutamente vengono chiamati i sanitari del primo soccorso che ora andiamo a vedere. Possiamo andare avanti. Quindi questo l'ho già detto, possiamo andare avanti tranquillamente. Polizia giudiziaria, il magistrato di turno, andiamo avanti e quindi tutto converge sulla scena del crimine perché praticamente è tutto atto per identificare, raccogliere, analizzare e interpretare i segni lasciati dalla vittima o dall'aggressore. Una cosa curiosa, secondo voi se una persona viene uccisa al quinto piano e una persona viene uccisa al primo piano, la scena del crimine è uguale, per esempio? No, perché se una persona viene uccisa al primo piano sicuramente potremo trovare una fuga alternativa del reo. Magari il reo può essere scappato dal balcone. Se una persona viene uccisa al quinto piano sicuramente dovremo analizzare la porta e il portone d'ingresso e quindi se ci sono telecamere, se ci sono telecamere frontali, se ha lasciato delle impronte nell'aprire il portone d'ingresso perché questa persona non si può volatilizzare. Deve essere passata per forza da lì. In un primo piano può essere entrata anche dalla finestra o dal balcone. Vedete quanto è importante individuare un certo tipo di delitto e dove avviene? Andiamo avanti. Le indagini dirette e indirette, praticamente, che sono le indagini, per esempio, quelle proprio reali, quelle che fa la polizia scientifica, i RIS, e le indagini indirette sono quelle che fa solitamente la squadra mobile e il PM, cioè raccoglie tutte le informazioni da parte dei testimoni o delle persone vicine alla vittima e cerca di fare un lavoro che poi deve compasciare con le analisi tecniche. Quindi è un lavoro in sinergia. Ok? Andiamo avanti. Il passaggio iniziale, come detto poco prima, spesso per determinare il successo o l'insuccesso di un'indagine è proprio nelle mani della prima volante. Sembra una cavolata, ma è così. Andiamo avanti. Ok. Puoi andare avanti perché c'è uno schema, che altrimenti è, diciamo, la... Ok. Queste sono le figure che intervengono sulla scena del crimine. Abbiamo l'ufficiale della volante, il personale del 118 che deve dichiarare la morte della persona, il medico legale che è, praticamente, è preposto per fare l'ispezione cadaverica sul momento, poi sarà il magistrato a decidere se fare l'autopsia o meno. Il personale del 115, quindi i vigili del fuoco, qualora la scena del crimine lo richieda, ma molte volte lo richiede. Perché dite? Perché magari molte volte una persona non risponde nel suo appartamento, viene ritrovata morta all'interno, intervengono i vigili del fuoco per aprire la porta. La polizia scientifica, quindi chi va a fare il sopralluogo, i RIS, che non sono soltanto i RIS, ci sono anche i ROS, c'è anche il RACIS, c'è anche il gabinetto di polizia scientifica, quello interregionale, regionale, ci sono vari nuclei. Il PM, quindi il magistrato, e la polizia giudiziaria, che sarebbe la polizia, che insieme col PM svolgono le indagini dirette, dirette intese come le indagini dove ci sono la maggior parte di raccolta di fonti e di prove. Ok? Andiamo avanti. Quindi, abbiamo già detto, possiamo andare avanti, tranquillamente. Comunque, ci sono delle domande, quindi magari a metà ci fermiamo. Allora, per esempio, Marta chiede, come arrivare alla figura di investigatore vera e propria? Cioè, qual è il percorso che si deve seguire per arrivare a fare l'investigatore? Allora, il criminologo investigativo. Allora, l'investigatore è l'investigatore privato, è a un'agenzia investigativa, ma si occupa per la maggior parte di infedeltà coniugali, di reati in aziende, piuttosto che raccogliere delle prove, ma non sarà mai un consulente tecnico di parte, quindi un criminologo investigativo. Per arrivare a fare il criminologo investigativo, assolutamente bisogna avere una laurea o in giurisprudenza, ma la principale è in psicologia, fare un master in scienze forensi, specializzarsi in un settore della scena del crimine, quindi in un settore della criminalistica, l'analisi della scena del crimine è quello perfetto, e iniziare a fare il CTP, consulente tecnico di parte, quindi libero professionista, con partita IVA privata. Questo è il tipo di lavoro, cioè non si trova un lavoro, non c'è un posto di lavoro, cioè io collaboro con la dottoressa Abruzzone, è il mio datore di lavoro, ma io ho la mia partita IVA, non sono un dipendente della dottoressa Abruzzone, io ho una mia partita IVA da libero professionista e lavoro dove c'è da lavorare, cioè in qualsiasi caso c'è bisogno del mio intervento, vengo chiamata dagli avvocati che difendono le famiglie, vengo intercettata, mi dicono, dottoressa c'è questa scena del crimine, c'è bisogno di questo, di questo, di questo, il PM sta decidendo per l'archiviazione, vuole subentrare nel caso come consulente? Sì, io sono libera di dire di sì, anche se lavoro nell'equip della dottoressa Abruzzone, perché la dottoressa Abruzzone non è un'azienda che mi dà il contratto di lavoro a tempo indeterminato, no, il datore di lavoro sono io stessa, anche per lei, cioè in senso, lei mi dice, Isabel c'è questo caso, entri, imbarca oppure non ti va? Roberta, questo mese ho tanti, devo risolvere i miei, c'è una corte d'assise, c'ho quello, c'ho quell'altro, questo caso passano ad altri colleghi, per dirvi. Invece c'è una domanda, quando il corpo viene trovato nella seconda scena del crimine, come si fa a risalire alla prima scena del crimine? Allora, solitamente tramite fonti investigative, cioè sicuramente si capirà che c'è un sospettato, perché magari si è trovato il cadavere in un certo posto, si analizzano quelli che sono i contributi delle c'è le telefoniche di dove poteva essere il cellulare, c'è tutta la parte investigativa che alla fine conduce a dove può essere la scena del crimine, ma se è stata ripulita per esempio, come facciamo a capire che quella è la scena primaria? Per esempio con il luminor, avete mai visto quella scena del luminor che accende e fa vedere se ci sono le tracce di sangue? Quelle sono le tracce di sangue latenti, cioè quelle che non si vedono all'occhio dell'investigatore, ma sono presenti comunque sulla scena del crimine, sono difficilissime da cancellare. Il luminor, per esempio, molti immaginano come una lampada, il luminor non è una lampada, il luminor è come un'aspirina, viene diluito in una sostanza di acqua distillata, quindi si usa l'acqua distillata, questa pastiglia come un'aspirina, viene sbattuta e quell'acqua distillata, con quel tipo di sostanza, agisce con la chimine in un'escenza, la chimine in un'escenza agisce con il comparto ferroso del sangue, quindi laddove incontra del ferro sulla superficie, quindi il sangue che è colato ma è stato lavato, ripulito, quella che viene in un'escenza dà l'effetto lucciola che appare e scompare, quindi non illumina la stanza blu per esempio, è un falso mito, appare e scompare e là ci fa capire che c'è stato probabilmente, probabilmente del versamento di sangue, come facciamo a capire che c'è stato realmente il sangue con i test presuntivi, che sono delle striscette come al test delle urine per esempio, si strofinano sulla superficie dove abbiamo creduto che il luminor ha individuato il sangue, si mettono in un liquido e ci danno in 30 minuti la positività al fatto che ci può essere stato del sangue, dopo di che si fa un secondo test presuntivo e si capisce se il sangue può essere di tipo umano o di tipo animale, se è di tipo umano andrebbero individuare quella come il teatro sicuramente di un crimine. Questo? Ci sono altre domande? In realtà sì, ma ce ne sono così tante che direi che è meglio finire la presentazione e poi farle tutte alla fine. Ok, va bene, va bene, va bene. Metto la presentazione, ok. Ok. Ok, perfetto. Quindi, abbiamo già, ho già detto tutto in maniera rassuntiva, possiamo andare avanti così poi diamo anche spazio a chi ha da fare le domande. Andiamo avanti. Ok, quindi questo sono uno dei lavori più importanti da fare sulla scena del crimine che sono a notare tutti i criminalisti che interviene sulla scena del crimine. Io per esempio intervengo sulla scena del crimine a posteriori perché gli unici che possono intervenire sulla scena del crimine facendo praticamente i rilievi sul momento quando è accaduto il fatto è la polizia scientifica, i RIS. Quindi per fare questo tipo di lavoro devi entrare all'interno di un nucleo della polizia scientifica ma per farlo anche come me, cioè come libero professionista. Cosa succede? Quando c'è un caso, per esempio, io posso essere chiamata dalla famiglia e posso rientrare nell'appartamento, visionare i filmati dei colleghi dei RIS e rifare, per esempio, delle analisi. Quelle si chiamano accertamenti tecnici ripetibili. Quando vedete nei TG che rientrano nella casa con le tutine dei RIS entra varia gente, quello è un accertamento tecnico ripetibile dove io, per esempio, che sono un criminalista, posso lavorare accanto alla squadra dei RIS che ha fatto il sopraluogo primario per andare a individuare altre tracce. Io lavoro così, per esempio. Quindi annotare, fotografare, videoregistrare, come vi avevo detto prendere gli schizzi degli ambienti sempre. Ogni fascicolo tecnico di una scena del crimine ha i suoi disegni fatti dagli operatori che intervengono. Tu devi fare proprio un disegno dell'ambiente e anche una descrizione. Per esempio, devi annotare che tempo fa e che se piove, se fa sole o se, per esempio, è una giornata uggiosa. Perché? Perché se io dentro all'appartamento trovo delle impronte di fango e il giorno che è stato trovato il cadavere è una giornata di sole quel cadavere non è morto quel giorno. Magari sarà morto due giorni prima quando dilupiava. Io queste cose devo scriverle. Pure che il medico legale me lo dice io lo devo scrivere. Perché se poi mi trovo delle impronte di fango io devo dirgli, spiegare al PM che io ho capito che quella è una giornata di sole e sicuramente se ci sono quelle impronte o possono essere state lasciate dalla vittima quindi magari la persona è stata uccisa era ancora in vita quando, per esempio, il giorno che pioveva o possono essere state lasciate dall'assassino quindi è stata uccisa oppure non c'entrano un cavolo con la scena del crimine ma devo dirle non posso dimenticarmi nulla sulla scena del crimine della scena del crimine e sulla scena del crimine quindi la posizione della vittima è ovvio perché se poi io ho il medico legale e questa vittima me la gira non è la stessa posizione in cui è morta cambia tutto mi cambia la dinamica di dove è stata colpita e come è stata colpita poi e quindi tutto il resto tutto quello che ne diviene andiamo avanti vabbè prendere nota l'ho già detto possiamo andare avanti l'ora, il giorno e quant'altro la descrizione della scena quindi le condizioni tutto quello che vi ho detto finora possiamo andare avanti andiamo avanti quindi possiamo andare avanti la videoregistrazione che deve essere fatta in un determinato modo andiamo avanti perché tanto questo è lo stesso materiale che io do ai miei corsisti documentazione fotografica quindi le foto come vedete anche nei film che vengono fatte le foto sulla scena del crimine andiamo avanti ok gli schizzi allora per esempio cioè io quando analizzo un fascicolo giudiziario perché il caso l'hanno archiviato la maggior parte delle volte quando io subventro è perché magari c'è stato un disastro nelle indagini cosa mi devo andare a vedere il fascicolo giudiziario quindi mi prendo tutto le dichiarazioni dei testimoni le intercettazioni il fascicolo del medico legale cosa mi devo anche prendere da quel punto di vista mi devo prendere anche la relazione tecnica della squadra della scientifica e lì posso capire se ci sono stati degli errori o meno posso dire no questa cosa l'hanno fatta male abbiamo questo reperto avvocato chi ce l'ha in custodia della polizia giudiziaria ok andiamo lo reperciamo e lo analizziamo per esempio noi sempre previo permesso del PM andiamo avanti questo è uno schizzo di una scena del crimine dice oddio devo saper disegnare sì per il sopralloghista eh io questi schizzi li ho sempre trovati nei fascicoli giudiziari non li ho fatti io in prima persona perché questo è il lavoro di chi fa il primo sopralluogo che di solito lo fa la polizia scientifica oppure il nucleo dei carabinieri il ROS ok andiamo avanti il laser scanner per esempio una nuova un nuovo metodo per la quale per esempio io faccio lo schizzo ma con il laser scanner prendo l'estremità di un posto poi me lo lavoro il computer e mi esce proprio una piantina ben specifica però non tutte le squadre ce l'hanno non tutti ce l'hanno e comunque ancora è raro trovarlo andiamo avanti allora cosa fare l'intervento sulla scena del crimine quindi abbiamo detto limitare l'accesso della scena usando il nastro per identificare i possibili percorsi utilizzati dal criminale registrare accuratamente le condizioni originarie della scena quindi anche con un cellulare però il poliziotto che interviene è obbligato quasi a fare quel tipo di attività a notare ogni modificazione della scena dovuta a interventi proprio di terzi il personale del pronto soccorso è il più grande inquinatore della scena del crimine ma è l'unico utilizzato a farlo perché non sempre troviamo la persona già morta magari la persona va in ospedale e muore in un momento successivo oppure dobbiamo rianimarla e non posso stare attenta l'operatore non può stare attento a quello che fanno perché in quel momento è prioritaria la vita della vittima o della presunta vittima poi se quella persona muore a distanza di un mese scusatemi il termine so cazzi perché magari non si è trattata quella scena in maniera giusta da preservarla andiamo avanti ok ok no vai giù 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 ok vai giù giù perché tanto l'abbiamo detto in tutti i modi cosa non fare per mettere appunto che gli altri entrino sulla scena del crimine ovviamente mangiare fumare nessun operatore può fare mai una roba del genere addirittura gli operatori che intervengono sulla scena del crimine come criminalisti quindi RIS e ROS loro per esempio sono schedati a livello di sangue perché se possono esserci delle contaminazioni può accadere per esempio considerando che i sopralluoghi durano tantissimo e sono veramente estenuanti può succedere qualche contaminazione però magari si può fare le analisi ed escludere che per esempio quella contaminazione sia dell'assassino o di un operatore che è intervenuto per esempio un caso è stato risolto in Inghilterra con il sangue all'interno di una zanzara quindi l'operatore ha visto una zanzara ha schiacciato la zanzara ha prelevato col contofioc il sangue che è uscito da quella zanzara e si è trovato l'identità di una persona che poi si è trovato a essere l'assassino della vittima che era in terra un operatore mio collega ha provato a rifarlo in Italia ha visto una zanzara e ha detto magari ci succede il culo che abbiamo avuto in America hanno avuto in America e invece è risultato che il sangue era il suo cioè lui faceva il sopralluogo la zanzara la molla insomma e quindi praticamente si è ritrovato il suo sangue invece che quello che pensava dell'assassino andiamo avanti quindi per esempio quando si fa un sopralluogo può durare dalle 6 alle 12 ore e non si mangia ragazzi non si beve non si portano cose esterne e non si va neanche in bagno a fare pipì perché si hanno le tute e non si può fare nulla perciò per una donna è raro fare il criminalista andiamo avanti questo per esempio è il cadavere il cadavere di una persona ritrovato in un ambiente del terreno vedete il terreno questo è un cadavere depezzato messo all'interno di alcune buste e è sotterrato vedete il terreno come ha inglobato il cadavere quello come lo prendo io con l'archeologo forense ovviamente quella non è una quella è una foto straniera non è un nostro protocollo farlo con le mani nude cioè devi essere con le tute con i guanti per favore per carità di Dio però quella questa foto l'ho presa per farvi vedere quanto è difficile e quante sono difficili alcune volte determinate scene del crimine ragazzi ok andiamo avanti il rivenimento dei vesti umani quindi capita che sulla scena del crimine ci siano tracce inequivocabili di un'aggressione mortale ma manchi la vittima se non venga rinvenuto nessun corpo può succedere andiamo avanti cioè c'è tanto spargimento di sangue per esempio l'avete sentito parlare o anche no Maria Kindamo che è una donna che è stata fatta scomparire mentre entrava nella sua tenuta in Calabria su quella scena c'è un sacco di sangue ci sono i capelli di Maria ma non c'è Maria non c'è il corpo quella è una scena del crimine andiamo avanti possiamo andare avanti poi ovviamente se non viene ritrovato il corpo si può per esempio utilizzare i cani molecolari i cosiddetti cani molecolari e vi ho fatto anche una spiegazione di come questi cani molecolari perché riescono a trovare i cadaveri perché il cadavere praticamente ha delle componenti chimiche che avvengono post mortem con degli odori particolari che possono essere riprodotti in laboratorio queste cose questi stracci vengono imbevuti con praticamente questi odori e viene praticamente fatto questo tipo di lavoro qui andiamo avanti allora ok sì andiamo avanti l'ho già spiegato possiamo andare avanti alla 48 ok perfetto ragazzi la la dottoressa si sta per connettere con noi ora la stiamo aspettando e tra poco possiamo cominciare grazie stiamo aspettando la dottoress aspettando la Grazie. 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 Se avete altre domande per adesso le potete scrivere in chat in generale su questo, a parte che non sia del modulo perché mi avete fatto domande sul modulo dall'inizio della questa live quando avevo messo il banner in basso per dirvi che sarebbe il modulo avrei mandato alle 10 quando sarebbe entrata la dottoressa tra poco. Grazie. Nel frattempo che aspettiamo continuiamo a vedere il video. Ok, 48, pezzi di maiale, andiamo avanti. Per esempio, possiamo andare avanti, vi ho fatto vedere una delle scene del crimine più importanti, voi eravate piccoli, mi rendo conto di questa cosa, ma per esempio quella dopo, non so se ne avete mai sentito parlare, è la scena del crimine del delitto di Meredith Kercher. Andando avanti, la possiamo vedere. Perfetto, ragazzi, la dottoressa è qua. Mi senti Marco? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, buongiorno ragazzi, non mi potete vedere perché sono in un'oletta del tribunale, infatti mi scuso, ma ho dovuto sostituire un mio collo. Credo che la sentiamo. Un attimo solo. Allora. Dottoressa, la sentiamo. Mi sentite? No. Mi sentite? No. Ok. Un attimo solo. No. Ok, quindi solo io non la sento. Ok, si sente ragazzi, allora è a posto. È uscito. Ok. 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 Adesso dovresti sentirmi. Ok. Allora, stiamo dicendo, innanzitutto mi scuso se non ho attivato la videocamera, ma sono in un'oletta del tribunale perché ho dovuto sostituire un colloca, quindi non posso proiettare dove sono. E' stata una giornata iniziata in un'oletta del tribunale perché ho avuto un'oletta del tribunale perché ho avuto un'oletta del tribunale perché ho avuto un'oletta del tribunale. Quindi, volevo chiedervi se ci sono delle domande ineronte a quello che avete visto. Ragazzi, avete domande? Allora, altrimenti proseguiamo. Una, volevo sapere, la possibilità di proiettare delle slide, qua c'è? Dovrebbe esserci. Un attimo, solo allora che vedo. Allora, in realtà io non ho nessuna opzione qui. Allora, ragazzi, ora vi mando il modulo per le presenze. Ok, ve lo mando nella chat. Prego, ragazzi, il modulo. Nemmeno impostazioni. Ho sbagliato il link, scusate ragazzi, non era quello. Allora. Ragazzi, abbiamo alcuni problemi tecnici. Madonna, santa. Vabbè, ragazzi, nel frattempo rimetto il video. Le condizioni, ovviamente, questa è quando è stata trovata, questa è la vera scena, vera, fotoreale. Quando è stata trovata, Meredith praticamente, aveva in sostanza, cioè era praticamente così. Però, chi deve intervenire su quella scena? Deve intervenire ancora, se è stata trovata, ok? Deve intervenire ancora sicuramente il medico legale. Quindi, andando più avanti, quando Meredith è stata portata via, in sostanza, vedete? Abbiamo il cuscino. Andiamo avanti, il cuscino. No, 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 scusami, indietro, dove c'era il cuscino? Ok. Abbiamo il cuscino. La pozza di sangue in cui c'era Meredith. Sul comodino, anche del materiale lasciato da chi è intervenuto, bravissima, grazie. E vedete com'era una scena del crimine difficile. Quindi, cosa abbiamo come reperti? Su cosa ci dobbiamo concentrare? Sicuramente sul cuscino. È un reperto. Tutti quelli che sanno di cosa sono, reperti, devono essere presi, repertati, prelevati dalla scena del crimine, conservati in buste serili. Ok? Andiamo avanti.